Amici di Numero Dietz, buon mercoledì, anche se qui a Genova sponda blocerchiata di buono c'è veramente poco perché anche ieri è arrivata una pessima notizia, ovvero la vittoria della Cremonese in casa contro la Roma, decisiva la rete di Daniel Ciofani dal dischietto sotto la curva dei tifosi della Cremonese nei minuti finali quindi Sampdoria, ultima in classifica, però pensiamo alla partita di domenica, ore 15, contro la Salernitana che si rivela già veramente molto molto importante per il destino sia dei blocicchiati ma anche della squadra allenata da Paolo Sosa assenti il più importante di tutti ovviamente è Manolo Gabbiadini che ha ricevuto il cartellino giallo quindi difidato e però per quanto riguarda i giocatori che potrebbero rientrare si guarda specialmente al possibile ritorno di Gunter che dopo l'infortunio sembrerebbe aver ritrovato la forma, quindi speriamo bene